Buonasera a tutti e ben trovato a Maurizio Martucci, portavoce dell'Alleanza nazionale Stop 5G. Grazie Margherita e grazie alla Casa del Sole di voi. Partiamo direttamente dall'attualità. Abbiamo appena vissuto le elezioni elettorali e amministrative. Voi come Alleanza Stop 5G avete avuto dei candidati, avete avuto dei risultati e se sì come? Diciamo che noi in maniera indiretta abbiamo supportato quei candidati che all'interno del loro programma, piuttosto che nelle esperienze maturate negli anni passati, hanno sostenuto la battaglia in nome del principio delle precauzioni per la difesa dei diritti dei cittadini, ovviamente andando contro l'avanzata della tecnologia 5G. E quindi ce ne sono stati diversi, in diverse amministrazioni, sia comunali, regionali. Il risultato è stato evidente lì dove un sindaco in Puglia, precisamente il sindaco del comune di Cisternino in provincia di Brindisi, in passato come consigliere comunale di opposizione aveva sposato, in maniera anche abbastanza sostenuta, la lotta contro l'avanzamento del 5G. Lo stesso anche possiamo dire per un neoconsigliere della regione Calabria, il dottor Ferdinando Laghi, persona sicuramente nota perché presidente dei medici ambientali di Isda International, oltre che vicepresidente di Isda Italia, un medico con il quale come Alleanza Italiana Stop 5G collaboriamo da anni. Me lo ricordo anche lo scorso settembre del 2020 insieme a noi a Piazza del Popolo a Roma a rivendicare il diritto alla salute contro il wireless ubiquitario. E poi consiglieri comunali, sicuramente sono delle figure importanti perché alimentano all'interno delle istituzioni la possibilità di aprire un serio dibattito senza tabù, senza essere prevenuti, ma in maniera trasparente dire realmente come sono le cose dalle stanze dei bottoni, quindi dal di dentro. Quindi benvengano questi consiglieri, questo sindaco, al quale noi ovviamente come Alleanza Italiana Stop 5G auguriamo un buon lavoro. Quanti comuni attualmente sono interessati al dibattito sul 5G in Italia? Diciamo che noi siamo rimasti fermi purtroppo alla conta degli oltre 600 comuni. Siamo rimasti fermi perché lo scorso anno con il governo Conte un decreto semplificazioni voluto dall'ex top manager Vittorio Colau al tempo a capo della task force per l'emergenza Covid-19 aveva chiesto al governo, il governo ha esaudito questa desiderata di tappare la bocca con un bavaglio istituzionale a questi comuni. Purtroppo il numero si è dovuto fermare, rappresentano una cifra di circa 5 milioni di abitanti in Italia, questi 600 e più comuni. Io sono profondamente convinto, noi lo siamo, che se non ci fosse stato questo decreto che riteniamo essere incostituzionale, molto probabilmente oggi saremo a parlare di oltre mille più comuni perché era sicuramente un trend in crescita in maniera esponenziale. La battaglia non è assolutamente fermata, non si è arenata perché continuiamo a far leva sui sindaci perché i sindaci possano rivendicare nelle sedi opportune anche di fronte ai tribunali amministrativi il loro diritto, dovere, compito istituzionale che è quello di proteggere la salute pubblica visto che il 5G ovviamente non ha alcun tipo di garanzia, rischio zero non esiste. Maurizio, in questo momento ci sono molte piazze che partecipano al dibattito contro il vaccino piuttosto che contro il Green Pass. Voi come Alleanza Nazionale state partecipando? Questa è una prima domanda. La seconda domanda però quella che mi interessa di più è relativa alla piazza di San Giovanni perché nelle settimane scorse abbiamo avuto Tiziana Alterio qui con noi che ci ha parlato di alcuni contrasti in quella piazza con l'Alleanza Nazionale. Puoi darci la tua opinione su quello che è successo? Così abbiamo entrambe le voci. Certo, ma rispondendo alla tua prima domanda Margherita io voglio sottolineare a chi è in visione e in ascolto che come Alleanza Italiana Stop 5G noi sin dal primo momento abbiamo creduto e sostenuto la rivendicazione popolare nelle piazze. Ricordo esattamente come lo scorso anno la manifestazione nazionale che promuoviamo in piazza del popolo che in realtà fu la seconda manifestazione nazionale unitaria preceduta esattamente una settimana prima dall'esordio ricorderanno i nostri amici in ascolto a piazza della bocca della verità. In oltre un anno, un anno e mezzo abbiamo continuato a presidiare le piazze io personalmente sono stato invitato in tantissime città a portare la mia e la nostra voce quanto è accaduto invece in piazza di San Giovanni il 25 settembre in realtà non ha precedenti perché per la prima volta in una manifestazione corale dove varie anime e varie espressioni erano state comunque invitate a partecipare il tema del 5G è stato accantonato. Questo non era mai accaduto prima la polemica che si è innescata mi avviso valletta attraverso una chiave di lettura di stimolo di proposizione cioè io ritengo e noi riteniamo che non possa essere escluso il tema del 5G lì dove le piazze giustamente rivendicano diritti, rivendicano libertà, rivendicano libertà di scelta e autodeterminazione non soltanto per quanto riguarda le politiche sanitarie ma lo rivendicano evidentemente anche per quanto riguarda le politiche digitali perché il 5G rappresenta esattamente quel punto d'arrivo che ha nel credito sociale un sistema tipicamente in uso in Cina che attraverso la rete 5G quindi il processo digitale vede oggi in realtà un embrione con il Green Pass quindi se non si capisce, non si fa capire al popolo, ai cittadini, a quelle straordinarie 100.000 persone convenuti a Roma qual è realmente l'obiettivo finale di questo grande reset a mio avviso si fornisce un servizio amputato, nulla toglie ovviamente al merito degli organizzatori nulla toglie al fatto che sia stata compiuta praticamente una sorta di impresa portare per la prima volta da quando è scoppiata questa crisi sanitaria 100.000 persone in un'unica piazza non era mai successo ma bisogna alimentare il dibattito, la critica e soprattutto far capire che c'è dell'altro oltre ai vaccini quindi la critica che ho sollevato è esattamente con questa funzionalità io mi auguro che i movimenti, i partiti, le sigle che animano i vari cartelli che si susseguono nelle piazze italiane comincino a capire che bisogna guardare la luna senza fermarci al dito sì, senza fermarci al dito è quello che tu spieghi molto bene nel tuo ultimo libro tu hai scritto diversi saggi sull'elettromagnetismo e anche sul 5G l'ultimo libro si chiama Stop 5G edito da Terranova e in questo libro spieghi tante cose ma soprattutto fornisci tanta documentazione per far capire che effettivamente il problema 5G è un problema importante forse è il cuore dei problemi e in questo libro riporti anche una lettera che tu hai scritto a Giulietto Chiesa ricordo che noi ci siamo conosciuti pochi mesi prima della sua dipartita e tu lo ricordi, vorrei se mi permetti leggere questo passaggio tu lo descrivi così un intellettuale guerriero, un uomo gentile e colto in eredità ci ha lasciato una responsabilità morale, etica, civile ma soprattutto ideale l'ascito per chi non ha smarrito forza e indole ribelle necessari per opporsi alla destrutturazione dell'essenza programmata della fagocitante matrix antinaturale continuare a combattere, slegati dall'ansia di prestazione e risultato finale mettendosi a servizio della causa con umiltà e coscienza alla luce del sole come in vita ha dignitosamente fatto, fino all'ultimo di suoi giorni, in piedi questo suo messaggio sarà una guerra spietata la condurranno porta a porta ci verranno a prendere uno ad uno c'è bisogno dunque di persone leali e coraggiose per vincere questa battaglia per questo dobbiamo difendere il nostro territorio certi che i nemici, i padroni universali li definiva più che nella dicotomia rosso e nero del secolo breve oggi si mimetizzano nello simbolo di una realtà distopica, subdola, prepotente e potente multinazionale e globale che non ci lascerà scampo se non saremmo in grado di reggere l'urto la tecnologia disumana l'aveva appellata Giulietto perché aveva capito bene aveva capito tutto Giulietto l'eretico che disse il 5G sarà una catastrofe sanitaria a lungo periodo per tutto ciò che vive e quindi tu dici da qui si continua ora siamo qui dopo quasi un anno e mezzo abbiamo un nuovo ministro che si chiama Cingolani è il nostro ministro della transizione ecologica un nuovo ministero e questo ministro ci dice che il pianeta è stato progettato solo per 3 miliardi di persone e quindi siamo troppi allora forse che c'entri qualcosa il 5G nei piani di Cingolani e dei suoi capi forse c'è qualche piano che noi non conosciamo perché 3 miliardi di persone noi siamo 7,7 mi risulta cosa facciamo? previsione verso i 9 miliardi quindi significherebbe farne a meno di 5 è qualcosa di inquietante queste sono le loro affermazioni questi sono i loro programmi ovviamente non stiamo scoprendo l'acqua calda né ripetere le loro stesse affermazioni no ma anche perché se Giulietto ci dice verranno a prenderci uno ad uno forse aveva intuito qualcosa la lungimiranza del compianto Giulietto Chiesa è sotto gli occhi di tutti io ricordo perfettamente l'ultima volta in cui ho avuto la possibilità di parlarci aveva intuito tutto aveva capito perfettamente tutto prima ancora che scoppiasse la crisi sanitaria lui diceva esattamente queste parole verranno a prenderci uno a uno oggi magari rileggere queste frasi come hai fatto tu cara Margherita può dare l'aderenza alla realtà che stiamo più che vivendo subendo tutti quanti noi o quantomeno avvertono di subire le persone che hanno ancora in animo uno spirito di libertà e il ministro Cingolani insieme al ministro Vittorio Colau evidentemente ricoprono un ruolo fondamentale all'interno dell'esecutivo Draghi io sottolineo come non a caso i loro dicasteri si chiamino di transizione l'uno digitale e l'altro ecologico però in realtà con una chiave di lettura se vogliamo incontroluce possiamo accorgerci che di digitale di ecologia in realtà non c'è nulla perché l'uno fa riferimento all'utilizzo delle nuove tecniche e soprattutto delle nanotecnologie per comandare anche all'interno dei propri organismi gli esseri viventi e mi riferisco ad esempio all'affermazione di Colau quando parlava che attraverso il 5G si potrà somministrare da remoto un farmaco a distanza è qualcosa di inquietante che magari oggi viene sbeffeggiato come teoria del complotto poi magari cara Margherita ne torneremo sicuramente a parlare più avanti e l'altro ministro Cingolani che di transizione ecologica in realtà nasconde un connubio perpetrato sotto mentite spoglie tra digitale ed ecologia questa transizione ecologica in realtà è una transizione transumanista Roberto Cingolani quando ancora era capo dell'Istituto Italiano delle Tecnologie lui era il direttore scientifico ricordo ancora quando nel 2017 a Barcellona nel congresso mondiale della telefonia mobile si parlava di grafene come di conduttore all'interno dell'organismo umano io poi ho ritrovato e non credo di essere stato l'unico a farlo all'interno del web una sua dichiarazione dove esalta esaltava quindi esalta queste nanoparticelle per poter evidentemente all'interno dei corpi portare delle prestazioni performanti Roberto Cingolani nel 2015 è autore a quattro mani di un libro che si chiama Umani ed Umanoidi evidentemente quando io denuncio nel transumanesimo la vera chiave di lettura per capire il 5G e faccio anche sforzo perché non è stato semplice per me dopo anni di indagine mettere nero su bianco all'interno di questo libro per far capire che il 5G non è telefonia mobile per far capire che il 5G è lo strumento è la rete capillare per controllare la società civile per avere diciamo in pugno l'intera umanità ma per arrivare al transumanesimo che il transumanesimo è un passaggio del posto umano noi dovremmo comprendere e capire che ci sono questi ministri che ricoprono ruoli chiavi all'interno dell'esecutivo Draghi che portano avanti queste teorie noi dovremmo capire che all'interno della maggioranza che sostiene questo governo ci sono parlamentari che fanno espressamente richiamo a teorie transumaniste sono stati svolti e io li riporto all'interno del libro ad esempio dei convegni alla Camera dei Deputati dove si dice apertamente che l'imperfezione dell'essere umano deve essere rivisitata attraverso un processo neomaltusiano ultradarvinista dove la tecnologia le nanotecnologie e quindi torniamo al grafene torniamo ai conduttori e torniamo anche alla rete 5G ubiquitaria possono perfezionare migliorare integrare l'organismo umano l'essere vivente stiamo parlando di una figura per chi non è addetto a queste tematiche evidentemente fantascientifica qualcosa che può somegliare al libido al cyborg ma in realtà sono i progetti che portano avanti le multine nazionali dico semplicemente che esattamente nel momento in cui venivo escluso dal palco di Roma di Piazza San Giovanni quando io avevo tutto l'interesse a parlare a quella straordinaria piazza per dire veramente cos'è il 5G la Samsung un colosso del 5G e delle telecomunicazioni annunciava di voler produrre i vaccini Pfizer quindi evidentemente i vasi comunicanti non sono più da annoverare alle teorie della cospirazione ma hanno una base fondata per quanto riguarda le mire espassionistiche dei transumanisti in termini semplici semplici che cos'è allora il 5G allora in termini molto semplici il 5G è una vera e propria rivoluzione è una rivoluzione totale io utilizzo le frasi e le riporto nel libro del ministro Luigi Di Maio quando nel 2018 vendendo all'asta le frequenze del 5G incassando la bellezza di 6,55 miliardi di euro quindi una finanziaria senza uno straccio di prova provata sugli effetti sanitari a breve medio e lungo termine lo disse il 5G è qualcosa per cui nulla sarà più come prima quel nulla sarà più come prima è l'espressione che venne utilizzata all'indomani dell'11 settembre con ovviamente quello che accadde a New York il Torre Gemene del Pentagono e quant'altro quindi il 5G è qualcosa che andrà a cambiare così come è stato per l'11 settembre andrà a cambiare però in maniera totale totalizzante le nostre vite andrà a cambiare anche la maniera di concepire i diritti della libertà perché avere a disposizione una rete da diffondere in maniera invisibile impercettibile perché il wireless le comunicazioni senza fili non si vedono non hanno odore ma arrivano dappertutto poter disporre anche in maniera così capillare ad esempio della banda dei 700 MHz che dal 1 luglio 2022 con la dismissione delle radiotelevisioni quindi sostanzialmente i canali tv verrà riconvertita per il 5G e parliamo di una banda che può coprire fino ai 20 km entrando nelle mura delle case ecco a quel punto si entra in quel concetto di Gigabyte Society cioè la società del Gigabyte dove le nostre città vengono riconvertite Smart City dove la nostra figura ontologica di essere umano viene riconvertita per vivere intorno agli oggetti parlanti e connessi e quindi il 5G è questo futuribile futuro questo mondo fantascientifico dove noi saremo costretti a misurare diritti libertà sentimenti voglie misure d'acquisto qualsiasi cosa che ci circonda con il digitale quindi il 5G è quel nulla sarà più come prima perché ci sarà la possibilità almeno questi sono gli europeani di vivere nell'inter delle cose circondati da oggetti sarà un caso che Wuhan è la prima città al mondo 5G ma non sarà un caso perché sicuramente ci sono state diverse segnalazioni da parte di cercatori che hanno provato a far luce su questo su questo binomio io riporto come al di là delle esternazioni degli organismi di sanità pubblica partendo dall'OMS per arrivare al Ministero della Salute tutti tutti sottolineo hanno in maniera perentoria dichiarato come non debba esserci non può esserci alcun tipo di correlazione tra Covid-19 e 5G proprio perché cominciava a serpeggiare nell'area ricordo ancora quando fece scalpore l'affermazione di Hunter Pauli all'epoca consigliere economico del presidente del Consiglio dei Ministri Conte quando lui disse beh ma bisognerebbe indagare per quale motivo le stesse città dove c'è il 5G sono le città dove si è diffuso in maniera così prepotente il virus del Covid-19 bene al di là di queste dichiarazioni io dico nel libro come nessuno abbia spiegato per quale motivo gli scienziati la scienza e i ricercatori non dovrebbero interrogarsi e cercare di far luce su questo tipo di eventuale connubio ma la cosa più preoccupante è che al di là di una facile smentita non c'è stata la prova provata a differenza invece del fatto di come e questo è fatto noto da almeno 20 anni si sappia che una frequenza come quella di 60 GHz in utilizzo ad esempio in Cina da dove tutto quanto è nato provenga per quanto riguarda l'effetto sanitario sull'organismo l'acidificazione del sangue la mancanza d'ossigeno questo non è non è possibile sconfessarlo allora bisognerebbe capire per quale motivo si cerca e si è tentato e lo si è fatto poi se vogliamo di tappare un buco cercando anche di di bannare di togliere quelle ricerche scientifiche che vennero pubblicate lo ricorderai sicuramente Margherita su PubMed quindi maggiori motori di cerca medico scientifici internazionali però non sono state fornite altre chiavi di lettura mentre in realtà ci sono degli appigli sui quali bisognerebbe invitare la comunità scientifica ad indagare probabilmente c'è anche molta censura e quindi c'è un po' un oscuramento di certe tematiche anche la comunità scientifica si trova nell'imbarazzo sia nella ricerca che nel parlarne probabilmente perché le ricerche appunto c'erano e sono state cancellate quindi poi da lì non si è più saputo niente nell'ultimo anno ci siamo fermati lì ci siamo fermati al 2020 restano però le dichiarazioni che tu hai citato e resta anche cambiando in parte l'argomento resta un brevetto della Microsoft proprio del marzo del 2020 di un chip un brevetto che è stato acquistato dall'organizzazione mondiale per la sanità un chip che registra la proprietà sul mind uploading cioè un monitoraggio dell'attività fisica quotidiano di una persona che viene inoculato in cambio di criptovaluazione e questo chip ovviamente è stato ideato da Bill Gates che significa? allora significa che che il 5G evidentemente è una prepista che l'internet delle cose è il trampolino di lancio per arrivare al 6G perché se il 5G come diciamo prima è l'internet of things il 6G è l'internet of bodies 5G 5G anno di partenza 2020 6G anno di partenza 2030 cos'è l'internet dei corpi? l'internet dei corpi è esattamente qualcosa che può essere richiamato da questo tipo di brevetto cioè la possibilità di disporre dell'organismo vivente la possibilità attraverso le nanotecnologie quindi anche chip non soltanto termali ma anche cerebrali di poter arrivare a qualcosa che può essere impiantato inserito all'interno dell'organismo voglio ricordare come nel 2017 la Food and Drug Administration che è l'ente governativo federale degli Stati Uniti d'America abbia autorizzato le pillole digitali le pillole digitali sono qualcosa che che corre di pari passo con il microchip perché significa sempre introdurre all'interno dell'organismo qualcosa di esterno di digitale che può mandare un dato un aspetto fondamentale è che l'era del digitale è fondata sui dati big data Angela Merkel dice chiaramente che il nuovo petrolio saranno i dati sono i dati quindi avere la disponibilità di dati in maniera infinitesimale significa poter disporre di tutti e tutti nel momento in cui il 6G si pone come obiettivo quello di sbarazzarci le nostre vite di tablet smartphone computer cellulari perché attraverso un innesto neurale la connessione può diventare direttamente machine to essere umano quindi parliamo di macchina uomo significa entrare in un qualcosa di cui evidentemente anche le persone che ci stanno ascoltando hanno fatica a comprendere parlavi della registrazione del brevetto di Bill Gates ma in realtà bisognerebbe anche ricordare come all'interno del libro io sottolineo come Elon Musk un noto transumanista stia sperimentando l'innesso del microchip nel cervello l'ha fatto con un maiale che aveva un uomo equivalente lo sta facendo con una scimmia e entro la fine di quest'anno ha detto che lo farà con l'essere umano quindi pensare di vivere in una realtà aumentata dove la navigazione sul web viene direttamente attraverso il cervello passare dall'intra delle cose per arrivare all'intra dei corpi ecco perché io dico che le piazze devono sapere ecco perché io dico che i cittadini devono essere informati ecco perché io dico che fa bene Shoshana Zuboff a ricalcare nel suo capitalismo della sorveglianza come tutte queste tecnologie non sono state più concepite come magari veniva fatto negli anni 80 piuttosto negli anni 90 a servizio degli utenti consumatori oggi sono tecnologie pensate per gestire per monitorare per controllare e per traghettare in quel grande reset in quella nuova umanità quindi quel microchip che poi oltretutto sentiva anche nei giorni scorsi nel mainstream si è sdoganato un po' anche il concetto ho visto le T4 ha fatto uno speciale con un sottotitolo microchip sanitario evidentemente sono queste le politiche sono queste le politiche di governo io ricordo come si erra si sbaglia si si cade in errore pensando che il 5G sia un nuovo standard di telefonia mobile sia un upgrade sia una miglioria prende meglio prende di più il telefonino qui stiamo parlando di altro paradossalmente le pubblicità ammiccanti che vengono veicolate sui maggiori mezzi di informazione sono un'arma di distrazione di massa perché il 5G non è esclusivamente solo telefonia mobile 5G è catapultarci in questa dimensione totalmente inedita che può arrivare anche al microchip dermale sottocutane addirittura al microchip cerebrale perché sono questi gli investimenti su cui le start-up e le multinazionali puntano di più ecco però abbiamo parlato di microchip però ricordavi per l'appunto che Colau già nel 2019 aveva parlato semplicemente di una puntura si può iniettare una sostanza medica che è necessaria per la salute attraverso il 5G quindi abbiamo già superato in questo caso il microchip oppure ci sono due metodi diversi ma diciamo che evidentemente ci sono filoni di pensiero o quantomeno aree di business diverse evidentemente si stanno percorrendo più strade per vedere quale di queste potrà arrivare per prima si sta sperimentando in ogni caso assolutamente sì bene però allora il 5G in ogni caso o tutto questo di cui abbiamo parlato compresi i microchip vengono presentati come delle soluzioni positive per il genere umano e quindi questi lati che tu ci stai facendo vedere sono per lo più nascosti probabilmente sono dei meccanismi che non sono etici però sembrerebbe a quanto ci dice il mainstream che comunque aiutano le vite aiuteranno le vite dell'uomo ma siamo partiti dal fatto che comunque c'è chi dice all'interno anche del nostro governo che c'è bisogno di una riduzione della popolazione allora c'è qualche contraddizione forse la vedo io solamente questa contraddizione forse non è così forse veramente anche se non in modo prettamente etico si vuole veramente migliorare la qualità della vita dell'uomo allora io mi sono accorto facendo le ricerche e gli studi che hanno portato poi alla scrittura del libro che in realtà si parte sempre da minoranze cosiddette svantaggiate ad esempio per quanto riguarda la l'unione la fusione se vorremmo dire se vogliamo dire utilizzando un po' un'espressione cara a Klaus Schwab che è il guru del forum economico mondiale che teorizza la fusione per l'appunto tra fisico umano e digitale ebbene io mi sono accorto che lì dove si è cominciato per le prime volte a fondere il biologico con il digitale si è partito da persone svantaggiate quindi magari portatori diversamente abili portatori di handicap chi ha l'assenza la mancanza di un arto di un braccio pensiamo di una gamba di una gamba quindi magari a queste persone si è cominciato ad adattare un esoscheletro piuttosto che un'arte artificiale si è sempre partiti dal presupposto di voler aiutare qualcuno però poi nel momento in cui la sperimentazione viene portata a compimento e si capisce che questo tipo di nuova tecnologia oltre a migliorare magari le persone che potrebbero averne un vantaggio può essere utilizzata anche per un altro scopo allora a quel punto si fa un salto quantico all'inverso dove piuttosto che dare offrire un beneficio un aiuto alla popolazione all'umanità si cerca di perorare finalità diverse io non credo che tutto quello che ci viene propinato poi alla fine possa essere ridotto a un'utilità comune io credo che purtroppo ci siano invece mire espazionistiche se vogliamo anche geopolitiche perché comunque sono discorsi che trascendono i singoli governi e gli organismi nazionali io credo che ci siano invece progetti come li richiamavo prima di carattere transumanista piuttosto che se vogliamo anche di controllo capillare delle masse della popolazione che fanno proprio leva sulle nuove tecnologie quindi quello che magari può essere visto come utile pensiamo ad esempio anche un coltello può essere utile per affettare del cibo ma se utilizzato in un altro modo può essere pericoloso e offensivo per un'altra persona oltre che per la propria persona io ricordo come gli scienziati che brevettarono l'atomica venivano visti come da insegnere del premio Nobel perché comunque avevano fatto una scoperta talmente straordinaria per il genere romano che andavano sicuramente posizionati sul podio poi ci siamo accorti all'epilogo della seconda guerra mondiale che cosa l'atomica può creare al mondo intero e quindi bisogna essere addentrati alla materia ma soprattutto scaltri nel cercare di distinguere cosa può essere buono positivo e cosa invece può creare un serio problema io faccio il giornalista di inchiesta da molti anni e questo libro lo offro ai lettori lo offro alla comunità lo offro a quanti desiderano indagare per capire il risvolto della medaglia io offro una chiave di lettura diversa piuttosto che incensare le lodi preferisco snidare e scoprire magari gli altarini e penso che tu lo offri anche ai parlamentari però mi sembra che non ci siano inchieste o richieste di informazioni da parte dei parlamentari quindi per quale motivo forse c'è una sparuta minoranza che non conosce l'argomento oppure non lo vuole conoscere e io credo la seconda la seconda che hai detto cara Margherita perché ad esempio questo libro fresco di stampa la prima persona a cui l'ho consegnata fu all'epoca il presidente del consiglio di amministrazione della RAI Marcello Foa e io andai personalmente in Viale Mazzini nella sede centrale sotto il cavallino rampante per consegnare alla figura picale di Mamma Rai questo libro per quale motivo perché la RAI si è macchiata a mio avviso si sta continuando a macchiare di un di un grosso di un grosso errore che è quello di non informare i cittadini ma lo stesso lo stanno facendo anche i parlamentari eccetto pochissimi che potremmo contarli sulla punta delle dita di una mano eccetto pochissimi parlamentari tra Camera e Senato tutti gli altri fanno orecchie da mercante e non a caso utilizzo questa espressione perché fanno finta di non capire come il 5G sia realmente un pericolo per tutti quanti noi sia un pericolo per madre terra sia un pericolo per la natura sia un pericolo per gli esseri umani sia anche un pericolo per gli equilibri internazionali perché il 5G nasconde come diciamo prima lo accennavo un discorso di carattere geopolitico anche una guerra fredda che si sta combattendo tra colossi internazionali quindi finanziare questo tipo di nuova tecnologia significa anche finanziare una nuova corsa agli armamenti di carattere tecnologico è una guerra molto calda infatti più che fredda quella che si sta svolgendo in quest'ultimo periodo soprattutto in quest'ultimo anno però a questo punto quale speranza resta per l'uomo comune ma io credo che se vogliamo se vogliamo difendere la nostra essenza di esseri umani se vogliamo difendere le nostre vite quelle delle generazioni future se vogliamo difendere anche tutto quello che ci circonda perché è inutile nasconderlo si abbattono alberi per impiantare antenne per installare antenne questo è pacifico nel libro riporto ovviamente dati scientifici che dimostrano in maniera inequivocabile come non sia tutt'altro che una bufala il fatto che gli alberi ad esempio intralcino l'irradiazione del wireless nelle microonde millimetriche e quindi se noi vogliamo difendere ma scusami se sono millimetriche come mai c'è bisogno di abbattere gli alberi ad alto fusto questa è una domanda che viene spesso fatta viene spesso fatta perché le microonde millimetriche hanno un raggio d'azione molto molto contenuto e dovendo evidentemente essere posizionate sui lampioni della luce proprio perché il 5G prevede la connessione obbligitaria permanente e simultanea fino ad un milione di oggetti per chilometro quadrato non so se il dato può essere chiaro ma significa replicarlo sul 98% del territorio nazionale per servire il 99% della popolazione quindi pensiamo all'Italia al nostro stivale nulla sarà escluso da questo tipo di radiazione pensata anche dal cielo con il lancio dei satellite in orbita fino ovviamente a sottoterra pensiamo ad esempio ai tombini dei marciapiede anche lì sono previste installazioni di antenne ebbene alcune tipologie di antenne quelle a microonde millimetrie quelle che hanno una gettata molto ristretta sono state pensate sui lampioni della luce e quindi i lampioni della luce avendo una dislocazione ogni poche decine di metri impattano gioco forza con gli alberi basta uscire per strada guardarci intorno sappiamo perfettamente come le nostre città siano costellate da lampioni e da alberi ma in maniera simultanea si stanno abbattendo alberi in tutto l'occidente quindi non soltanto in Italia e si installano nuove antenne il problema qual è? e questo ce lo dice la fisica non lo dico io e ce lo dicono anche le stesse compagnie telefoniche io riporto ad esempio Verizon che è il colosso del 5G americano con un suo documento ufficiale dice che gli alberi sono un problema per quale motivo? semplicemente perché gli alberi sono fatti di clorofila la clorofila è acqua e l'acqua diventa un elemento che assorbe l'irradiazione elettromagnetica delle microonde millimetriche e quindi diventa un ostacolo equiparabile a un elemento solido quindi come può essere un'abilazione in questo caso per quanto riguarda le microonde millimetriche possono diventare anche gli alberi quindi tornando alla domanda che mi facevi prima dobbiamo accrescere la consapevolezza per farlo c'è bisogno di un tantam di informazione che a questo punto diventa disperato il libro secondo me è essenziale perché questo è il primo libro al mondo che spazia a 360 gradi su tutti i temi che riguardano il wireless il futuro digitale il 5G per arrivare anche alla robotica un tema molto importante perché quando noi parliamo di internet e delle cose dobbiamo capire che anche i robot sono stati considerati come tra virgolette equipollenti alla nostra figura di esseri umani questo è fondamentale quindi noi dobbiamo fare tantam grazie alla Casa del Sole che oltretutto ospita sin dalla sua nascita una rubrica che conduco grazie a te Margherita monotematica sul 5G facciamo informazione facciamo reale informazione la si può fare con un libro la si può fare anche nelle piazze quindi è per questo secondo me che bisogna parlare il più possibile di questi temi portando dati portando verità portando numeri portando prove lasciando ad altri magari teorie un po' campate in aria a noi come giornalisti come professionisti dell'informazione il diritto dovere e il compio di informare lo stiamo facendo qui bene allora invito tutti quanti a leggere il libro Stop 5G di Maurizio Martucci perché è veramente ricco ricco di dati e di documentazione ci sono veramente molti report molti documenti che sono stati anche poi nascosti censurati si parla appunto del transumanesimo si parla di cos'è l'alleanza Stop 5G ma si parla di esperimenti di cavie si parla anche dell'uso militare e quindi anche geopolitico del 5G quindi è veramente interessante è una lettura che mi permetto di consigliare perché deve essere assolutamente approfondita di questi tempi per conoscere e così evolverci è una possibilità in più per la nostra salvezza quantomeno per arricchirci di cultura se altro eventualmente non potremmo fare quindi ringrazio Maurizio e noi comunque proseguiamo in questa battaglia e proseguiamo quindi con la nostra rubrica Allerta 5G come già facevamo in Pandora TV grazie mille Maurizio per essere stato con noi grazie a te cara Margherita un caro saluto a tutti gli amici in ascolto della Casa del Sole TV